Benvenuti ragazze e ragazze qui è Frank Rockstorm Oggi siamo in un nuovo run and gun In un nuovo, beh diciamo, non ne ho mai portati sul canale Se volete vedere un nuovo run and gun fatemelo sapere supportando questi Ecco, siamo in compagnia di una ragazza, si chiama Natasha E già ho fatto un death run o un death match con lei E campera moltissimo Death run no, di più un death match Ah, se volete il ritorno di death match e gare online Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, è sicuro che è qua, ecco E questa è la seconda hit così Questo personaggio lo userò più sempre nei video, è in rango 238 L'altro personaggio l'ho cancellato perché mi faceva un pochettino di antipatia Guarda, guarda come campera, guarda Eh, col camper contro Frank non si gioca Numero 1 Guardate Vabbè dai, perché è donna Io comunque non sono un gran camperone Cioè io gioco in modo leale Sicuramente è qua dietro Ecco, ecco Dovevo farlo Eppure lag Le ho detto non sono un gran camperone però Sicuramente la troveremo di qua Ecco, ecco Si vede dalla mappa E Frank non muore E Frank non muore E Frank muore Le ultime parole famose Usiamo il cecco No, l'ho lisciato Lisciato La stessa cosa Dai va Cerchiamo di sparargli da qua sotto Sapete che vi dico Col cecchino non gli sparo Perché non sono camper E nabbo Ci vado con la carabina speciale Eh, ecco cosa succede A non essere un camper Serie positiva Dai Che poi gli spawn Sono sempre uguali Morta Dai, sei a due Non è nulla di che 10 munizioni Pochissime Attenzione se ce la facciamo Quando dico così Succede sempre Il contrario Giusto appunto Vabbè È normale No, che culo che c'ho avuto Raga Ma Ma si è messo Mira manuale Se no Vabbè Poi purtroppo Lei è in rango 72 Quindi un pochettino Più scarso Però Dai La La cosa è buona Guarda Guarda Fucile a pom Io odio I fucili A pompini Poi Nello scorso Deathrun Deathmatch Anzi che abbiamo fatto Megliorano in gun Dire perché Deathrun Che è un deathmatch Non si può sentire proprio Lei usava Il lanciarazzi Questo mi dava Sui nervi Eh Non si sfugge Alla mira Dello Cefreng E non si cambera Beh se raggiungiamo 10 chi No raga Cioè avete visto Come mi ha passato Il lanciacazzi Perché si chiama così Non si chiama Lanciarazzi Sto colpo Mi ha distrutto Vabbè dai Non manca poco 25 secondi C'è anche la musichetta Finale E noi usiamo Il cecco Sì vabbè Si suicida Quasi quasi No Eh beh Dai belli Back and fly Dai raga Un colpo di lanciarazzi Lo diamo pure noi No anzi Usiamo questo Va Bella mira C'ho Comunque Ok Prima è arrivato Spero che questo video Vi sia piaciuto E superiamo i Avanti Facciamo 3 like Per un prossimo Run and gun In compagnia di qualche amico Per questo video è tutto Bella raga